Veronica Maier è la nuova difensora civica dell'Alto Adige. È stata eletta dal plenum giovedì con 25 preferenze, dopo che alla quarta votazione è stata raggiunta la necessaria maggioranza dei due terzi. Il pomeriggio precedente erano state esaminate le proposte dell'opposizione, approvata quella del Gruppo Verde di vincolare i sussidi per la formazione medica o in professioni sanitarie all'impegno a lavorare per tre o quattro anni nel servizio pubblico. Una proposta simile del Tim K relativa alla formazione di medici è stata invece respinta. Respinte anche le mozioni del Gruppo Verde per sostenere l'Austria nell'ambito della procedura di infrazione relativa al divieto di transito notturno sull'A22 di J. V. H. Wirt Anderland perché il Consiglio si dichiarasse favorevole ad un'urgente soluzione diplomatica della guerra in Ucraina, della Sutiroler Freiheit, per la creazione di una polizia provinciale. Sospeso un voto del Partito Democratico, sostenuto dal Tim K e Gruppo Verde sul congedo di paternità obbligatorio, è stata respinta poi la parte deliberante della proposta di Freyfraction, sostenuta da Tim K, Sutiroler Freiheit, Gruppo Verde, J. V. A. Für Sutiroler mit Widman, Partito Democratico e Vita, per una migliore valutazione dei progetti PPP. Infine sono state approvate due mozioni della maggioranza presentate dalla SVP per stabilizzare la chiero casearia e rafforzare la polizia locale attribuendo le ulteriori competenze e funzioni. Durante la sessione di aprile l'Aula ha ospitato anche la presentazione delle risoluzioni adottate dal Parlamento dei Giovani della Convenzione delle Alpi da parte di alunni e alunne della Scuola Marie Curie di Merano che hanno consegnato al Presidente un documento con le proposte in tema di aree naturali protette. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.